Il 2-3 giugno Mondovì accoglie l'evento nazionale Urban Downhill, lo sport di bici per discesa che in questa edizione mischia percorsi montani con quelli urubani. Per scoprire meglio di cosa si tratta ne parliamo con Claudio Sasso, organizzatore dell'evento. Ciao! Innanzitutto vorrei sapere cosa vuol dire fare Downhill. Tecnicamente Downhill è una disciplina gravity, quindi si svolge principalmente in discesa. Il trucco è percorrere un tracciato pieno di difficoltà nel minor tempo possibile. In realtà poi il Downhill è un mix di adrenalina e di emozioni. È un continuo movimento, è uno sport faticosissimo, al contrario di quanto si pensa per uno sport a discesa, tant'è che chi fa Downhill si allena tantissimo per pedalare. Questo percorso in particolare cosa prevederà? Questo percorso in particolare è molto bello perché parte dal punto più alto della collina di Mondovi Piazza, quindi dai giardini del Belvedere, che offrono una panoramica, una vista stupenda su tutto l'arco alpino. Di qui scendiamo giù attraverso scalinate, piccoli viali, alla scoperta di angoli a volte anche un po' nascosti agli stessi moregalesi. Fiancheggiando tutta la funicolare arriviamo nella parte bassa a Breo, nel quartiere storico di Breo, dove avremo il traguardo con un salto ancora spettacolare. Come ti sembra il tracciato? Il tracciato è molto molto bello, è suggestivo come dicevo prima per la vista che ha e per gli scorci della collina di Piazza, molto caratteristici. È tecnico, è tecnico, difficile ma fattibile a tutti nella giusta misura in cui uno sa andare. Grazie Claudio. Prego, grazie a voi. E per conoscere meglio come verrà organizzato l'evento ne parliamo col direttore dell'ATL Paolo Bongianni. Salve direttore. Buongiorno, si tratta di un evento importante per il turismo perché è un evento che fa spettacolo, che farà tanta comunicazione perché è un'unicità avere una corsa di Downhill in un abitato urbano, in questo caso partendo da una realtà storica straordinaria come la Torre del Belvedere di Mondo di Piazza per arrivare e scendere poi a Mondo di Ebreo, un momento appunto di presenze turistiche perché sono attesi 400 ragazzi che verranno a pernottare, scopriranno per la prima volta il nostro territorio e quindi ovviamente di riflesso una ricaduta economica. Ma questo è uno dei tanti eventi che andrà a imperlare l'estate cunese, ricordiamo il 24 maggio l'arrivo del Giro d'Italia a Prato Nevoso con l'ingresso da Alba, un collegamento simbolico fra la Langa e la Montagna, fra l'altro la quarta ultima tappa forse decisiva per la Maglia Rosa. Come detto il weekend del 2-3 giugno l'Urban Downhill di Mondovi, il 16 e 17 sempre di giugno a Frabosa Soprana avremo la Gravity, una delle quattro prove del campionato italiano di Downhill, quindi di nuovo atleti internazionali che arriveranno a cimentarsi sulle pendici delle valli cunesi e chiuderemo questo percorso nel weekend del 2-3 settembre quando a Priero si svolgerà la finale del campionato italiano di Super Enduro, una gara straordinaria perché porta atleti da mezza Europa ma fra l'altro li porta anche già a provare i percorsi nelle settimane precedenti. Durante tutto questo periodo chiaramente la nostra spinta sulle attività outdoor e in questo caso in particolare sulle attività del pedale sarà il più forte possibile per cercare di portare a casa i migliori risultati. Grazie direttore. Grazie a voi e arrivederci a presto. L'appuntamento mi raccomando 2-3 giugno a Mondovi.